I giudici europei sono un fattore di sviluppo e di consolidamento dell'Unione? La risposta è sì, sono un fattore di sviluppo, la Corte di Giustizia e insieme al Tribunale di primo grado sono l'elemento trainante del processo di integrazione, questo ci dice la storia dell'integrazione europea. Tecnicamente i giudici si occupano di verificare la legittimità sia degli atti comunitari, regolamenti, direttive, eccetera, sia delle leggi nazionali e degli atti amministrativi nazionali, avendo come parametro il trattato e il diritto comunitario in genere. In realtà quindi anche le leggi nazionali, attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale, non tanto delle procedure di infrazione, soggiacciono al controllo di compatibilità con il trattato comunitario e quindi possono soggiacere alla verifica di legittimità, così come soggiacciono alla verifica di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Il ruolo della Corte di Giustizia è stato, ripeto, un ruolo trainante, strutturale del sistema e questo sia quanto alla coerenza del sistema complessivamente considerato, cioè ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario, ripeto, attraverso il controllo anche della compatibilità delle leggi e degli atti amministrativi nazionali, sia quanto all'effettività del diritto comunitario che viene applicato negli Stati membri, dalle amministrazioni e dai giudici nazionali, quindi il problema dell'effettività è un problema centrale. Quanto alla coerenza del sistema nel suo insieme, ricordiamo la giurisprudenza sul primato del diritto comunitario, sull'effetto diretto, cioè la posizione giuridica del singolo, del cittadino, di tutti i Paesi membri è direttamente tributaria delle norme comunitarie. Quindi, professor Tesauro, il ruolo dei giudici europei è un ruolo trainante? Devo dire che il ruolo trainante e strutturale del giudice comunitario si vede soprattutto nello spostamento progressivo del baricentro del sistema dalla libera circolazione delle merci alla circolazione delle persone. Cioè la persona che nel trattato sembrava in ombra rispetto al resto è diventata il centro del sistema, così come nel resto nella Costituzione italiana, quindi i valori coincidono. E circolazione delle persone significa tutti i diritti, anche quelli fondamentali. Ecco, questo è molto significativo. I diritti fondamentali, la loro tutela non era prevista dai trattati originari. Oggi la tutela si avvale di una giurisprudenza quarantennale, ricchissima, che è stata solo completata nel momento in cui la Carta di Nizza, cioè la Carta europea dei diritti fondamentali, ha avuto il vigore che gli ha dato la riforma di Lisbona. Ma già per l'opera pretoria dei giudici comunitari, la tutela aveva raggiunto un livello assolutamente soddisfacente rispetto al livello degli Stati membri. Grazie a tutti.